Cari amici Montevarchini e non solo, cosa fate domenica sera, domenica 31 dicembre? Dopo il cenone di fine anno vi aspettiamo in Piazza Varchi, come potete vedere già iniziano i preparativi per festeggiare la fine del 2023 e salutare l'arrivo del 2024. Una serata organizzata dalla Comune di Montevarchi in collaborazione con la Proloco di Montevarchi e il centro commerciale naturale dove ci saranno tante cose da vivere, buona musica, divertimento e un bel rinfresco all'arrivo del nuovo anno, quindi mi raccomando dalle 22 domenica 31 dicembre vi aspettiamo qui a Montevarchi, in Piazza Varchi, io ci sarò eh!